Dispenser TV di Pietro Gasparri, condotto da Pietro Gasparri e Gianna Fabrizi. La Regione Toscana, in collaborazione con Dispenser TV, presenta La Buona Terra, viaggio nel mondo dell'agricoltura e della filiera corta in Toscana. In questa puntata della Buona Terra inizia una serie di appuntamenti dedicate alla strada del vino delle terre di Arezzo. Un'occasione anche per valorizzare gli agriturismi che ne fanno parte e da allora Linea Gianna che ci sta aspettando. Siamo all'azienda agricola Appoggi del Chianti in provincia di Arezzo e sono insieme a Mirko, il proprietario. Ecco Mirko, parlaci della tua azienda. La mia azienda è una delle tante aziende che produce vino e olio della provincia di Arezzo associata alla strada del vino, terre di Arezzo chiaramente. La mia azienda agricola produce principalmente vino Chianti e Super Tascan ed olio d'oliva. Siamo venuti a visitare una vigna, un pianto nuovo, che ha una particolarità. Allora, è principalmente ben esposto, esposto a sud e è 100% Sangiovese. Da questo vino verrà fatto del Chianti. È un clone di Chianti nuovissimo, selezionato recentemente, che darà un vino per il medio e lungo invecchiamento. Adesso Mirko ci ha portato a vedere un altro tipo di vigneto. Questo è il corpo principale dell'azienda per quello che riguarda la superficie evitata. La differenza è che qui l'esposizione è diversa rispetto all'altra, perché l'altra era a sud e questo invece è leggermente a nord-ovest. Sia per quel che riguarda la caratteristica del terreno che per l'altitudine sono differenti, perché qui ci sono più terra, mentre dall'altra parte c'è più sasso e siamo più alti, siamo all'incirca a 500 metri. Quindi che tipo di vino viene fuori? Probabilmente un vino leggermente più fine, cioè più aromatico e meno ignorante, cioè meno tagliente, meno robusto. Facciamo parte della cosiddetta filiera A corta, se non cortissima, dove il prodotto coltivato viene anche trasformato e venduto direttamente in azienda. Siete associati alle strade del vino di Arezzo, che vino producete? Principalmente produciamo Chianti, Chianti è un vino rosso a base di uve sangiovese, in due differenti versioni. Una versione vecchia a scuola, che ricorda i vini Chianti fino agli anni 70, quindi un vino facile e leggero. Un vino che definendolo vino da tavola non gli si toglie niente, ma in realtà è l'uso esatto di quel che si deve fare del vino, quindi accompagnare al del cibo. E la versione un po' più moderna, che è un po' più complessa e dà una certa performance all'assaggio. E dall'azienda agricola Poggi del Chianti, insieme a Mirko e con un buon bicchiere di vino a Chianti, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Grazie a tutti.